siamo qui con luca re benvenuto su sms news quotidiano grazie mille siamo qui per parlare del tuo ep umore 01 allora intanto io partirei chiedendoti un po se ci racconti come hai lavorato a questo progetto che ha delle sonorità pop ma più elettroniche diciamo rispetto al passato sì sì assolutamente diciamo che ho lavorato a questo progetto inizialmente l'idea è venuta fuori un po di tempo fa nel senso che ne parlavamo in estate del 2022 e diciamo che è sempre un po strano quando questi progetti magari iniziano a prendere almeno le idee iniziano a prendere forma così tanto presto almeno per me nel senso che è strano ma bello anche perché è come se tu modellassi il progetto man mano strada facendo che il progetto prende forma no e diciamo che è stato un po così inizialmente avevamo un'idea che era quella di dividere tutto in questi tre ep tre ep inizialmente anche perché mi sono ritrovato ad avere tanti pezzi che stavo producendo lo scorso anno e a un certo punto ho detto cavolo non so se mi sento pronto per fare un album però allo stesso tempo ho voglia di far sentire alle persone quello che comunque ho fatto e siccome avevo tanta roba ho detto vabbè dai facciamo una roba insomma diversa parliamo di umore e insomma ci sono un sacco di modi per parlare di umore come si è visto insomma usciranno tanti pezzi diciamo che l'approccio al lavoro è un po sempre sempre lo stesso nel senso tante sessioni studio e diciamo il cercare di vivere più vita possibile in modo da da poter racchiudere il tutto nelle varie fasi parliamo un po di queste tre canzoni che sono contenute nelle p cominciando da basta dove rifletti sul fatto appunto che spesso siamo tentati no nel scendere a compromessi perché magari ci sono anche per cercare di soddisfare insomma le aspettative degli altri però poi la cosa più importante è accettarsi un po come si è essere consapevole insomma di quello che si è sì sì esatto basta in realtà l'hai già spiegata molto bene nel senso che voleva dire proprio questo io basta l'ho scritta in un momento diciamo che tutto l'EP riflette un po quella quella cosa di fallimento o comunque situazione difficile che in un modo nell'altro provoca una reazione positiva negativa che sia e di conseguenza un umore basta l'ho scritta proprio in un momento in cui avevo ricevuto un no diciamo per farla molto generica e diciamo che io sono una persona che i no li prende dipende se è il no della mamma andiamo avanti se è il no un po più importante diciamo cioè importante è quello della mamma però e diciamo che mi sono preso una bella batosta però a un certo punto diciamo che poi basta nonostante sia uscita all'inizio già racchiude tanti aspetti di umore come progetto ed è proprio quella voglia di dire alla fine l'unico modo per essere davvero felice è essere me stesso e lo scopro continuamente ogni volta che poi ricevo quei no che sembrano farmi così male ma in realtà mi fanno solamente crescere dal punto di vista di questa consapevolezza e volutamente basta un processo proprio anche a livello di produzione in crescita nel senso che vuole partire da un momento difficile fino a diventare una festa perché ho scoperto che essere me stesso è la chiave e quindi questo Poi abbiamo cose che non capisco che anche questa insomma si riferisce un po' ai fallimenti che possiamo incontrare insomma nel corso della vita Sì cose che non capisco nello stesso come ho detto racchiudono un po' più o meno tutti lo stesso concetto volutamente ognuno da un punto di vista differente cose che non capisco per esempio c'è un tu molto ricorrente nel ritornello perché il ritornello dice tra le cose che non capisco tu sei quella che preferisco e insomma il tu può essere sicuramente visto come come una canzone d'amore ma in realtà il tu è riferito a qualsiasi cosa che in un momento difficile ti possa dare la possibilità di reagire che sia anche un semplice guardarsi allo specchio fino ad essere un amico un genitore una ragazza un ragazzo insomma quel qualcuno quel qualcosa che ti fa venire voglia di riscatto insomma e poi c'è blu che è un dialogo con il vento che è metafora insomma un po' anche delle difficoltà che che si incontrano esatto in blu per esempio invece faccio una metafora appunto con il vento in cui inizialmente ci dialogo dicendogli io ti odio perché è una difficoltà in quel momento è una 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 brutta sensazione il vento però poi nel momento in cui lo affronto capisco che ci sono cose del vento che in realtà forse mi assomigliano anche e forse affrontare il vento è il vero modo per poter ritornare al blu e al sereno che tanto desideriamo un po' la pace insomma è questo. E di cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica a chi ascolta Umore 01? Beh sicuramente Umore 01 ma in realtà tutto il progetto sempre è una roba che mi piacerebbe che arrivasse è la sincerità nel senso che tutta questa consapevolezza di arrivare poi a dire ho scoperto che essere me stesso è la chiave in realtà sta anche per dire io quando scrivo in generale ci metto davvero è come se fosse uno specchio della mia anima sono una persona molto timida in generale ma nel momento in cui scrivo non mi faccio nessun tipo di problema non metto nessun tipo di filtro tra me e le persone che poi mi ascolteranno mi piacerebbe che una volta finito di ascoltare le cose che che produco insomma che scrivo le persone un po' mi conoscessero di più e magari si rispecchiassero e venissero aiutati dalle mie parole. Volevo capire un po' anche a livello di produzione come come avevi lavorato appunto su questo disco. Sì a livello di produzione diciamo che come dicevo come ti dicevo prima all'inizio stavamo raggruppando insomma dei pezzi che già c'erano e stavamo capendo un attimo come come fare perché comunque l'anno scorso è stato un anno molto produttivo come ho già detto però a un certo punto diciamo allora i due pezzi cose che non capisco è blu sono due pezzi che ci sono ormai da quasi un anno però sono due pezzi che comunque tra tutti quelli che abbiamo fatto voluto tenere proprio perché il significato di quei pezzi era qualcosa che mi apparteneva ancora mentre invece basta da già da già uno sguardo a quello che arriverà anche nei prossimi due ep di quest'anno nel senso che a un certo punto del mio percorso cose che non capisco è blu le ho prodotte con Criverde mentre invece a un certo punto del mio percorso sono entrati in gioco diciamo i Demona che sono due ragazzi molto molto bravi due produttori musicisti che di solito loro fanno elettronica sperimentale e diciamo che loro mi hanno dato una mano a fare quello che volevo nel senso che a me piace molto l'elettronica ma allo stesso tempo mi piace essere pop dal punto di vista di essere accessibile alla gente cioè a me piace quando che ne so io ho un bel rapporto con mia madre noi ci diamo molti consigli sull'ascolto allora spesso gli mando le robe mi piace quando lei capisce quello che gli sto facendo ascoltare questo significa che anche se il genere non è pop in realtà a livello di accessibilità è pop io volevo quello cioè mettere insieme l'elettronica che mi piace molto e poppizzarla diciamo dal punto di vista dell'accessibilità e loro mi hanno dato modo di fare questo quindi così insomma senti a livello di prossimi progetti ci saranno dei live c'è qualcosa che può anticiparci sì assolutamente come ho detto l'idea anche di quest'anno di essere così produttivi e uscire con più pezzi è anche quella di avere tanta roba da poter fare poi live che è una parte che che mi piace molto perché hai l'interfaccia diretta con le persone e diciamo che guarda dirti delle cose confermate non ce ne ho troppe però sicuramente c'è la volontà quest'estate di organizzare sicuramente un mini tour come abbiamo fatto l'anno scorso e quindi di conseguenza avere la possibilità di suonare in più posti al momento non so dirti esattamente dove sarò a breve però insomma aggiorno costantemente i vari social e quindi lo saprai ok allora ci terremo aggiornati perfetto ti ringrazio luca per il tempo che mi hai dedicato grazie mille a te e un po' al lupo insomma per tutti i prossimi progetti viva al lupo grazie grazie a te